buongiorno ai telespettatori di le fonti tv e ben ritrovati con questa terza edizione delle chart tv week la programmazione di le fonti tv dedicata al mercato del lavoro un mercato del lavoro che a maggior ragione con questa emergenza che abbiamo dovuto e stiamo ancora subendo è particolarmente in movimento ma oggi vogliamo iniziare questa e chart tv week con la storia di un imprenditore digitale molto giovane ma che ha già un curriculum davvero degno di nota perché attraverso formazione e nuove opportunità di business che si possono ovviamente creare anche nuove opportunità lavorative ho qui l'immenso piacere di avere con me ludovico cianchetta basket grazie per essere qui grazie a voi per l'invito ludovico è founder di b&b academy appunto un imprenditore digitale ha fondato la sua prima start up quando aveva 18 anni adesso ne ha 25 ma ha già fatto tante cose interessanti la prima domanda che voglio fare è come si traduce una buona idea in un business di successo ovviamente la prima regola mio parere è avere esperienza su quel business e acquisirla diciamo che io ho iniziato con varie start up come dicevi tu ad oggi il mio business principale è nel campo immobiliare negli affitti brevi e avendo avuto un discreto successo personalmente e avendo avuto attorno a me una cerchia di persone che mi chiedevano come poter replicare questo business model innovativo perché nessuno lo insegnava praticamente non solo in italia ma in europa allora ho deciso di portare le mie competenze alla portata di tutti con appunto un corso di formazione quindi ad oggi il mio business principale è esportato ed è alla portata di tutti attraverso b&b academy attraverso quindi una piattaforma digitale e tecnologica ma che parte da un business precedente ovvero quello il mercato degli affitti brevi con airbnb quindi l'idea è partire da qualcosa che già c'è ma che le persone poi si sono trovate magari a dover affrontare senza le dovute competenze nella gestione ad esempio come host è così esatto diciamo che la maggior parte delle persone che io conosco ad esempio nella mia cerchia anche nutrita di tanti contatti hanno sempre usufruito di airbnb come guest come ospiti quindi fruitori come clienti e nessuno sapeva prima che arrivasse b&b academy di poter accedere a questo modello di business anche in realtà come diciamo fornitori quindi come proprietari di appartamenti perché tante persone pensano io per affittare un appartamento su airbnb devo possederlo e non tutti hanno una seconda casa a dedicare a questo business e qui invece c'è l'innovazione che abbiamo portato noi di b&b academy ovvero la possibilità per chiunque senza possedere un immobile senza necessariamente una partita iva perché si tratta di un reddito da locazione e volendo anche senza investimenti perché si possono gestire proprietà in cambio di una percentuale o si può adoperare di sub affitto quindi comunque con un investimento minimo si può entrare in questo business e diventare host profittevoli tant'è che oltre al 90 per cento dei miei studenti che ad oggi sono più di mille che sono entrati in questo in questo business non posseggono immobili di proprietà quindi operano o in sub affitto pagando un carone di affitto e generando una rendita tale che gli permetta di pagare l'affitto ovviamente avere anche un profitto oppure gestiscono proprietà per conto dei proprietari in cambio di una percentuale quindi investimento zero ma rendite molto alte perché poi un immobile su Airbnb a Milano in una zona neanche troppo centrale può generare anche 3000 euro al mese quindi se un mio studente prende il 30 per cento facendo due calcoli si tratta comunque ad investimento zero di una rendita automatica ma importante moltiplicata per più appartamenti inizia a generare un gruzzoletto molto importante assolutamente poi in un periodo in cui insomma le occasioni da una parte non mancano ma ben vengano opportunità soprattutto magari per per ragazzi perché prima magari chi si affacciava anche al mercato immobiliare da un punto di vista punto di gestione che gli investimenti immobiliari poteva avere un'età magari più alta avanzata proprio perché insomma magari c'era la necessità di possedere quello immobile invece in questo modo anche per giovani generazioni c'è un'opportunità in più un'opportunità in più attraverso la formazione che è una parola chiave e guida in questi mesi in cui molte persone hanno cercato anche di reinventarsi visto la situazione anche di stallo dovuto ovviamente all'emergenza covid-19 tu hai riscontrato una maggiore richiesta di formazione proprio dovuta a questa fase particolare assolutamente sì sì ovviamente come giustamente dicevi tutto tante persone erano a casa avevano voglia o di reinventarsi o di creare rendite aggiuntive quindi abbiamo avuto un boom di studenti e poi uno dei vantaggi principali di questo business è il poter automatizzare tutto quindi in realtà una volta che io accedo al corso studio imparo le competenze e le applico posso automatizzare completamente il mio appartamento e quindi abbiamo anche casi di studenti che fanno un altro lavoro vivono in un'altra città e hanno automatizzato tutto quindi hanno letteralmente un periodo di formazione fatto con il corso che ovviamente 100% online le lezioni sono registrate quindi ognuno ne può fruire quando meglio crede poi ovviamente c'è tutta la parte di assistenza invece sette giorni su sette dove se qualcuno ha un dubbio può assolutamente interfacciarsi con la nostra assistenza e quindi c'è una parte automatizzata 100% online ma poi c'è anche una presenza fisica costante da parte mia dei miei collaboratori che garantisce un'assistenza veramente sette giorni su sette a tutti quelli che sono i nostri studenti non sono mai abbandonati a se stesse è importante anche ovviamente in in questa fase riguardo anche un po al al tuo percorso tu appunto nonostante la giovane età già 18 anni avevi fondato la tua prima start up power me poi hai avuto altre esperienze professionali magari all'interno di strutture però diciamo non facevano per te ecco che tipo di consiglio possiamo dare a tutte quelle persone che magari si trovano all'interno di realtà aziendali che però non fanno per loro che quindi volessero intraprendere un percorso come imprenditori digitali uno dei diciamo pilastri che sento spesso radicati nella mente di tante persone che lavorano in ufficio è sì però io il posto fisso la partita iva la vedono un po come se fosse il demonio il diavolo e quindi innanzitutto questo business è ottimo perché sino a tre appartamenti si può svolgere in forma non imprenditoriale quindi senza partita iva e già questo diciamo paradigma lo abbiamo estirpato ma anche in realtà aprendo la partita iva che porta tanti vantaggi ne parliamo all'interno del corso comunque un business molto redditizio e quindi consiglio a chi vuole diversificare le proprie entrate quindi creando una rendita aggiuntiva sia a chi in realtà vuole proprio diciamo mollare gli ormeggi del posto fisso e buttarsi in un business non complicato senza troppa burocrazia e quant'altro questo è il business perfetto perché comunque parliamo di turismo che nonostante il periodo devo ammettere soprattutto con lo smart working riusciamo a riempire tutti gli appartamenti con affitti più a medio termine quindi magari stanno tre settimane quattro settimane rispetto a prima dove magari stavano pochi giorni ma oltre a ciò appunto è un business automatizzabile che è perfettamente compatibile anche con un lavoro da dipendente così come un lavoro full time dedicato a questo business abbiamo veramente una miriade di studenti diversi tra loro imprenditori che fanno altri business che hanno diversificato giovani studenti che vogliono intanto crearsi un'entrata nel frattempo che finiscono gli studi universitari piuttosto che persone che hanno perso il lavoro giovani meno giovani abbiamo anche uno studente addirittura over 60 che si è dedicato a questo business e la comunicazione all'interno del corso veramente semplicissima spieghiamo tutto nei minimi dettagli abbiamo anche il supporto di un dottore commercialista che spiega tutte quelle che sono diciamo le pratiche burocratiche che fortunatamente non sono particolarmente complicate quindi è veramente un business alla portata di tutti sia dal punto di vista della del business stesso che della formazione che è semplicissima e molto elementare sicuramente qualcosa di molto molto interessante insomma speriamo anche i nostri telespettatori possano ovviamente scoprire e riscoprire oltre a quelle imprenditorialità che si sente anche e si percepisce proprio dalle parole di di ludovico in una fase come questa in cui devo dire ci sono diverse difficoltà si parla adesso addirittura smart working alla società dell'iper stanchezza anche dovuta a tutti i sistemi tecnologici ecco avere delle idee dei messaggi positivi e propositivi è sicuramente di grande e fondamentale importanza tu come vedi il futuro anche del mercato degli affitti brevi anche in un orizzonte appunto che possa vedere la gestione anche di cove 19 in una maniera non emergenziale come quella attuale chiaro ovviamente abbiamo già avuto un assaggio diciamo di quello che sarà magari il futuro d'estate dove comunque casi sono diminuiti siamo tornati ad una quasi normalità e infatti le prenotazioni a breve termine sono nuovamente esplose garantendo comunque sia me che nei studenti ottimi profitti quindi penso che non appena ci sarà un vaccino potremo tornare appunto ad una quasi normalità ovviamente questo è un business molto rapido e molto meno diciamo strutturato non c'è magari un ristorante mi ama un ristorante mi rendo conto che ha tutta una serie di fornitori costi e quant'altro qui chi opera di investimento zero non ha neanche un affitto da pagare e quindi letteralmente durante i periodi di lockdown come adesso i miei studenti fanno i migliori affari perché convincono con maggior semplicità i proprietari a farsi dare in gestione degli appartamenti così come chi vuole operare in sub affitto riesce a strappare dei canoni di affitto ovviamente ancora più convenienti e quindi in realtà questo è un periodo sia di guadagno se si può dire così perché comunque riescono a incassare ma soprattutto di pianificazione per quello che è il futuro e quello che consiglio comunque alle persone che stanno guardando in diretta in questo momento questa intervista al di là di affitti brevi e quant'altro digitalizzate ove possibile perché le opportunità ci sono veramente per tantissime tipologie di business al di là degli affitti brevi e nel momento in cui si ripartirà veramente la digitalizzazione la farà da padrona per il negozio che può aprirsi l'e-commerce piuttosto che il ristorante che invece può lavorare bene con i servizi di delivery digitalizzazione è un altro dei termini chiave poi bisogna vedere come verrà applicato perché sappiamo che noi partivamo magari con alcuni gap e diciamo la pandemia ha svolto un ruolo di acceleratore rispetto anche a tanti di questi temi speriamo che questa digitalizzazione possa avvenire con l'iter corretto e possa essere uno stimolo in più rispetto proprio a Airbnb che comunque rappresenta il punto di partenza anche del vostro modello di business proprio pochi giorni fa è stato annunciato che ci sarà la famosa IPO al Nasdaq di Airbnb non è stata ancora svelata la data ma tutto ciò che riguarda le carte è stato comunque mostrato questa IPO che tipo di input in più potrebbe dare anche al mercato di B&B Academy certo ovviamente già tutte le notizie come giustamente dici tu che ci stanno propinando su tutti i media possibili e immaginabili è una grossissima pubblicità tante persone magari soprattutto i meno giovani non erano a conoscenza di Airbnb non capivano le potenzialità e quindi è tutta pubblicità ovviamente sia per B&B Academy ma anche per gli host stessi quindi i miei studenti e tutti coloro che lavorano in questa piattaforma perché comunque persone inizieranno a cercare che cos'è Airbnb come funziona qual è il business model e quindi potenzialmente indirettamente tutta questa appunto è un flusso di potenziali nuovi clienti che si avvicineranno alla piattaforma pronunteranno i miei appartamenti così come quelli dei miei studenti e di altri host e ci tengo anche a dire che ci sono stati fatti degli studi purtroppo tanti alberghi in questo momento stanno chiudendo e quindi c'è anche meno offerta dal punto di vista alberghiero classico e dall'altra parte quindi anche questo si riflette in una maggiore opportunità per noi che facciamo affitti brevi con Airbnb e anche questo la IPO sicuramente è fatta in questo momento storico tante persone possono dire ma come in questo momento Airbnb ha avuto dei cali nei ricavi e si butta in questo settore secondo me invece fa riflettere se una società così grossa che fattura comunque miliardi decide di investire adesso significa proprio che anche loro si aspettano in realtà una crescita molto importante a partire dal 2021 ed è quello che mi auspico e sono abbastanza sicuro accadrà sia io che chi opera tutti i giorni in questo business perché nonostante questo periodo dove tanti purtroppo sono costretti a chiudere noi riusciamo comunque ad ottenere prenotazioni e quindi significa fatturare, incassare certo, è un messaggio di fiducia nel futuro, nel 2021 anche un IPO sappiamo insomma visto che le fonti tv si occupa ovviamente del mercato finanziario con grande costanza tante IPO quest'anno sono saltate il fatto che questa invece, ok, quest'anno indicativamente insomma 2021 però è stata annunciata vuol dire che insomma delle potenzialità ci sono per il mercato e non solo un'ultima domanda che vorrei farti dare qualche consiglio su alcune delle caratteristiche che secondo te un imprenditore digitale, quindi in questo caso non magari chi direttamente segue B&B Academy ma chi vorrebbe magari seguire un po' il modello della tua carriera ecco quali possono essere le caratteristiche, le tre caratteristiche per avviare un proprio business digitale? beh sicuramente bisogna avere delle competenze nella materia che si vuole andare ad insegnare che paradossalmente può essere qualsiasi cosa, abbiamo un nostro studente di B&B Academy che è un maestro di intaglio di frutta thailandese ad esempio e lui voleva creare il suo corso per digitalizzare un po' il suo mestiere comunque adesso lui con i ristoranti, i matrimoni che non si possono fare e quant'altro giustamente ha avuto un crollo, ha detto voglio monetizzare le mie competenze e questa è stata una scelta molto intelligente, quindi lui adesso sta creando il suo corso da vendere poi a pasticceri, ristoratori e quant'altro ad esempio e quindi la prima competenza è sicuramente essere competenti nella propria materia essere intraprendenti perché comunque bisogna avere un minimo di spirito, di iniziativa nessuno verrà da te a dirti creiamo il corso, essere tu a deciderlo e affidarsi ovviamente a strumenti ottimali, c'è tanta gente che dice magari per risparmiare me lo faccio da me piuttosto che non investo in qualcuno che mi crei un sito web fatto bene o non investo in pubblicità, assolutamente no, investire fa parte del gioco e permette poi di arrivare a determinati risultati e a tal proposito poi avendo avuto tanta richiesta da parte di nostri studenti che appunto facevano anche altri business oltre agli affetti brevi abbiamo creato quella che è Uteach Academy un corso di formazione aggiuntivo che abbiamo creato per aiutare i professionisti come il docente di intaglio di frutta a creare il proprio videocorso quindi chiunque abbia delle competenze che vuole monetizzare sotto forma di consulenze o videocorso può prendere il nostro corso Uteach Academy e creare a sua volta il proprio videocorso e questo sicuramente è già un ottimo punto di partenza che copre secondo me il 90% delle cose di cui c'è bisogno per digitalizzare, sfruttare le proprie competenze e venderle a terzi assolutamente e l'ultimissima davvero battuta hai parlato di investimenti ecco per fare magari il salto di qualità che tipo di ruolo possono avere investitori anche professionali business angel, venture capitalista anche che sappiamo nel nostro paese ancora non è così sviluppato come magari in altre realtà per far fare il salto di qualità anche alle start-up beh io ho avuto un passato in start-up che magari avevano un business model che alle spalle necessitava di ingenti capitali magari per entrare nel mercato B2C della grande distribuzione piuttosto che per esportarsi all'estero ad oggi il mio business è praticamente al 100% digitale quindi non c'è questa presenza non se ne necessita però per tante start-up come quelle mie precedenti è sicuramente indispensabile e giocano un ruolo fondamentale nel momento in cui secondo me oltre al mero denaro portano anche delle competenze quello che io in passato ho notato è che c'è un deficit magari da una delle due parti cioè chi, magari qualche incubatore ti porta delle competenze tale per cui puoi aiutare a scalare il business ma dopo non riesci a trovare l'investitore o viceversa trovi un investitore che è pronto ad investire del denaro e magari non ti dà quelle competenze per migliorare determinati ambiti quindi secondo me è giusto avere dei venture capitalist quant'altro alle spalle ma avendo dall'altra parte magari anche un mentor che possa aiutare a raggiungere quelli che sono gli obiettivi perché poi si può avere anche tanto denaro alle spalle come investimento ma se non si sa come usarlo come sfruttarlo sicuramente non è ottimale diciamo l'investimento quindi puntare anche sulla formazione da quel punto di vista può essere molto importante anche per altre tipologie di start-up qui mi ricollego anche all'intervista che ho avuto l'occasione di fare all'interno del programma Book Crossing con Bill Owlett che è docente dell'MIT che ha scritto uno dei libri di maggior successo a livello globale e pubblicato lo scorso anno in Italia i 24 passi per creare una start-up di successo e ovviamente il tema di competenze e formazione erano ovviamente alla base così come quello di partire da idee semplici come l'intagliatore insomma di frutta per poi attraverso la digitalizzazione renderle effettivamente un'occasione di business quindi direi che sono particolarmente siamo allineati anche su questo il tempo a nostra disposizione almeno è concluso ma insomma terremo nel nostro radar ovviamente BNB Academy e le attività di Ludovico Cianchetta Vasquez che ringraziamo per essere stato qui con noi grazie a voi grazie ai nostri telespettatori per averci seguito non mi resta che lasciarvi al resto della programmazione di Le Fonti TV e poi al prossimo appuntamento con la nostra HR TV Week targata Le Fonti terza edizione grazie per averci seguito grazie a tutti